Il PVD è una tecnologia innovativa che permette la deposizione di un film metallico molto pregiato e sottile su un manufatto. La Foster ha adottato questa tecnologia applicandola ai propri elettrodomestici, a lavelli ma anche a piani cottura e miscelatori. PVD è acronimo di Physical Vapor Deposition, ovvero deposizione fisica da stato vapore. Il processo avviene all'interno di una camera sottovuoto. Un metallo pregiato, generalmente cromo, titanio, vanadio, viene fatto evaporare e le particelle vanno a depositarsi sul manufatto che intendo rivestire. Il processo avviene perché le particelle di cromo o titanio hanno elevata energia cinetica e si muovono all'interno di un campo elettrico. Viene infatti applicata una differenza di potenziale al manufatto che si intende rivestire. Il processo è fisico, non chimico. La tecnologia PVD ha diverse applicazioni e permette di ottenere caratteristiche fisiche e meccaniche molto elevate a seconda delle esigenze. Foster ha applicato questa tecnologia combinandola con le proprie esigenze e ottenendo prodotti PVD Foster veramente performanti. Le caratteristiche meccaniche principali dei prodotti PVD Foster sono elevata durezza, dieci volte in più di un acciaio inossidabile, elevata resistenza al graffio e all'abrasione. Il PVD Foster non è un PVD solo estetico, ma è un PVD tecnico. Inalterabilità della superficie e della colorazione darà a GUV. Resistenza alla corrosione è praticamente imbattibile. Resiste a sali, acidi e prodotti detergenti aggressivi presenti anche nell'ambiente domestico. Tutte queste performance non sono a discapito della sostenibilità. Il prodotto PVD Foster rimane un prodotto veramente green. È green il processo con cui lo si ottiene, in quanto non vengono rilasciati prodotti dannosi per l'ambiente. È green il prodotto finale, essendo ipoallergenico ed adatto al 100% all'uso alimentare. I prodotti PVD Foster sono proposti in tre colori, gunmetal, gold e copper, in due finiture, spazzolato e vintage. La finitura spazzolata, finitura monodirezionale, ottenuta tramite l'utilizzo di fibre vegetali. La finitura vintage, finitura pluridirezionale, ottenuta in modo artigianale. Grazie per la visione!